Bella a tutti raga Oggi farò un video su... Farò un gameplay praticamente Sul Pass 2020 Che ovviamente voi saprete di che gioco sto parlando E bene detto questo Iniziamo a giocare Aspetta un attimo che faccio una roba prima Bene Questa qua è la mia squadra In porta ho Deguer Difensore sinistro Van Dijk Centrale Gabriel E destro Komets Mediano Kimmich Centrocampista sinistro Perisic centrocampista destro Depay Trequartista De Bruyne Esterno sinistro Sané Come punto Suarez E... Beh sì E star palestro Però io vorrei fare un'altra aula Gestione squadra Scelta automatica Perfetto 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 Luca Carriera Che tu appena inizi a giocare C'è altro scarico In sto gioco Inizi con una squadra E tu praticamente fai la carriera Di quella squadra lì Più avanti vai Più difficili sono le partite Ovviamente E i giocatori ovviamente Sono Forti Bene Detto questo Possiamo iniziare con la partita cooperativa Donizioni Si si A me li conoscono Perfetto Perfetto Si si ma ben non è un bel gioco il gioco non è un bel gioco è un messaggio non è un gioco Non è caro. No, salto. I'm in like 1-1 I'll be in like 1-1 GONG Oh no I'm out of time I'm in like 1-1 Oh god Palla presa piena, guarda, signore, che dio, bello, capo, opta per il lancio numero, puoi chiedere la caccia locale? Eh, che vaca, bene, ancora il gioco, l'ho raggiunto. No, vaffa, bravo, fuori gioco un'altra volta. Era buona anche, non so, 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 non so. Dai, che lo faccio, abbiamo poi, bene. Ancora va fea, non si va fea. Sì, messi di testa proprio. No, non so, non so, non so, non so, non so. Sì, grande Messi, ogni volta c'è sempre il posto giusto al momento giusto. Buono, buono, dai, dai che la facciamo. Sì, bravissimi. No, così dietro, ok, 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 eh, madonna, che brodo, che culo. Mamma mia cosa ho rischiato qua. Ma dai, dai, abbiamo questo confetto. Che razze gol ha fatto Maradona. , numero! Un po' di 명ca. Un po' di calcio, non so. O qua. No, 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 quello è che guardavo. È un po' di calcio. Un po' di calcio. Un po' di calcio, no, non lo amo. Un po' di calcio. Molta tanto. Anche qua sono in colpa, io non scopo. Nooo. Va bene il capo, dai. Non sono vicino. Prova a scavaccare avversari con una palla lunga. Prova a scavaccare la difesa per il modo. Nooo, bene il capo. Non penso che non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Dai dai, fermate un'altra cosa qua. Quale buono? Non vedete. Tasi. Bellissimo, per esempio. Mamma mia. Venga. Venga, è gioco con padone a sinistra. Deprivit. Prova la verticalizzazione. E nel prossimo gioco, c'è il Dossat. Buono gioco. Non ciò. Il nostro è... Ma è un'accio, non ciò. L' совolo l'aventura. Ingiare. Ingiare. Un'accio, non ciò. Come. Ingiare. Ingiare l'accio, non ciò. Ingiare. Ingiare. guarda che in altri passaggi del cacchio dai guarda che bravo bravo un altro pareggio detto questo spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al mio canale attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video ciao